Ora possiamo passare all'efficacia operativa della comunicazione, perché i presupposti ci fanno capire, quindi a livello più logico, più mentale, come ci dobbiamo comportare, ma soprattutto a che livello dobbiamo ragionare per essere per l'appunto efficaci, quello che viene chiamato il mindset, quindi quell'insieme di ragionamenti, di riflessioni, di approccio mentale per poter essere veramente bravi a comunicarla. Però adesso abbiamo bisogno di essere efficaci effettivamente nei nostri strumenti, nel nostro agire, nel nostro potremmo dire vestire, nel nostro sguardo, quindi abbiamo bisogno di strumenti operativi e noi abbiamo tre macro strumenti operativi, o se volete tre famiglie di strumenti operativi. Sono strumenti operativi che madre natura ci ha donato, ce li abbiamo due addirittura dalla nascita, potremmo dire, e poi se ne aggiunge un terzo, anzi parlo subito di questo terzo che si aggiunge, che poi è una componente essenziale che ci distingue dalle bestie e dagli animali. Sto parlando del linguaggio, quindi noi abbiamo tutto un insieme di mondi di comunicazione che hanno a che fare con il linguaggio. Questo livello di comunicazione lo chiameremo d'ora in poi, il livello verbale, verba da latino, le parole, tutto il mondo linguistico, tutta quell'abilità che noi, grazie alla scuola, all'insegnamento, potremmo dire all'addestramento, portiamo con noi sin dalla più tenera età e che ovviamente ci permette di rapportarci in modo incredibilmente ampio tra esseri umani. Ma non esistono solo le parole, se esistessero solo le parole, tutto sommato avremmo, come dire, gioco facile nella comunicazione efficace. Basterebbe, pensateci, scegliere il termine giusto. A questo punto tu ti concentri su un termine, dai quel termine e dici è fatta, questo è il termine giusto, questa è la parola giusta, ho comunicato quello che volevo perché ho la frase giusta. Ma è così? Basta davvero dire quella parola magica per ottenere il risponso desiderato? In realtà l'efficacia è figlia anche di altri due livelli di comunicazione, che sono il livello paraverbale ed il livello non verbale. Insieme ovviamente fanno i famosi tre macro strumenti che ti dicevo poc'anzi. Il livello paraverbale si chiama così perché è l'insieme dei suoni che con le nostre corde vocali emettiamo quando parliamo. Parliamo, quindi se diciamo una parola qualsiasi, se dico buongiorno, io lo dico con la mia voce, ma la mia voce ha infinite sfumature come la tua del resto. E quindi possiamo cominciare a giocare sul tema quanti modi sonori in questo caso abbiamo, hai, per dire buongiorno. E soprattutto quanti significati dunque passano attraverso il buongiorno, detto in un modo, detto in un altro. Cambiando il tono di voce tu potresti tranquillamente dire a qualcuno buongiorno e intendere con un tono particolarmente aggressivo che è tutto l'opposto di un buongiorno. Anzi potresti quasi quasi fargli passare con il tono della voce al telefono che quel buongiorno in realtà è quasi un insulto. A livello verbale dunque tu hai detto buongiorno, ma a livello paraverbale hai fatto passare con il tono tutt'altro messaggio, tutt'altro significato. La cosa diventa ancora più divertente o complicata, scegli te, quando ci mettiamo anche la componente corporea, quindi non solo una comunicazione al telefono dove non vedo, quindi passa il verbale e il paraverbale, ma penso a una comunicazione deviso, occhi negli occhi, quindi con i corpi delle persone che comunicano in tempo reale mentre i toni della voce, il volume, il paraverbale, comunicano e mentre le parole comunicano. Quindi tre livelli di comunicazione paralleli. Vedila così, due persone che parlano dal vivo stanno passando messaggi a tre livelli contemporanei e paralleli. Si stanno dicendo delle cose a livello verbale, bla bla bla, si stanno dicendo delle altre cose con i suoni della voce, livello paraverbale, a livello invece non verbale se ne stanno dicendo altre di cose. Che cos'è allora l'efficacia massima della comunicazione? La possiamo tradurre subito in massima congruenza dei livelli, V, P, V, N, V, che sta per verbale, paraverbale, non verbale. È la massima base, potremmo dire, per costruire l'efficacia della comunicazione, che mi dà il massimo, diciamo, delle possibilità di ottenere il risponso desiderato. Ricorda che è sempre il risponso il vero significato finale, però certo che se io per primo sono incongruente, mando un messaggio che a livello verbale dice A, ma a livello non verbale dice l'opposto di A, e costano i miei stessi messaggi, quante possibilità ho di raggiungere il risponso desiderato? Sicuramente poche. Ne ho molte di più quando invece io unisco i livelli, come un laser vanno tutti nella stessa direzione. Dunque diremo che la base per la massima efficacia, e ricordalo da adesso in poi perché sarà fondamentale questo, è la massima congruenza nei tre livelli della comunicazione. Verbale, paraverbale, non verbale. Quello che dico, come lo dico, come mi comporto mentre lo dico. Tra poco scopriremo meglio quali sono gli aspetti fondamentali del paraverbale e del non verbale.